Dal punto di vista economico è stata fatta una stima anche approssimativa del danno subito? Logicamente la stima economica è in progress e anche tenendo conto di quello che si vuole fare perché sicuramente c'è una stima sull'emergenza e si parla di 6-7 milioni di euro poi c'è una stima per interventi a medio e a lungo termine che sarebbero risolutivi e che logicamente prevede somme enorme perché basta pensare all'intervento necessario, fondamentale e vitale per la risoluzione del problema che è il fossato maltempo, cioè l'imbuto di polla e per capire che le risorse possono essere davvero ingenti. Logicamente si tratta di scegliere con delle priorità, di dare alle cose la giusta priorità e credo che il mantenimento, il risanamento, l'attenzione al territorio sia una delle priorità assolute.